Musica Dove si sta? No, no, non c'è un film Non è carla nessuno e dunque di là Di spirito, no Dove si sono così Quindi Dove ci sono tutti Due Fu a fare A fare Come a fare Ma cosa è Che cosa è Bele Grazie. Grazie. O a meno che un presidente della regione che abbia predisposto servizi efficienti di autobus e navette che possano trasformare, ma non mi sembra che al momento ci sia niente di sicuro.